Ben a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Limoff Ciao ragazzi, sono Limoff e bentornati sul mio canale Oggi ragazzi sono qui per fare un video con Giuseppe Ciao Oggi faremo un paio di partite insieme a questo tizio qui Però non con la mia squadra in Ultimate Team Poi piano piano usciranno vari video su Ultimate Team E ci porterò tanti tanti bei video Quindi mi raccomando, lasciate dando mi piace se volete altri video del genere E se volete altri video di FIFA 17 Allora facciamo così, Giperd offre qualcosa Quando ci vediamo, a scuola Si comincia Alla macchinetta, perfetto Ok vabbè allora mi costa pure poco Eh, pure a me Anzi ti costa un po' Oh, subito, subito Oh, subito, dai golana Dai golana, dai golana Dai golana, guarda, guarda, guarda Napoli Davvero Davvero Dai 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 E non mollare ma comunque posso saluta una persona saluto a pietro canti sani che se vedrà questo video non c'è i cani voi cani mi hai ammazzato pelato poverino l'ambulchiamo al 118 molti di cattà! prosciutto cattà! oddio guarda che culo va vaffanculo il piccione si ama ambrosio si palo! è un pò sex aspetta 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 scesti scesti ecco me lo senti me lo senti dove te lo senti preciso? me lo sento nel... dove te lo senti? quando ti chiede a qualche con me? è N'ANGOLANDO! N'ANGOLANDO! scopulista! io tengo quel giocatore roccio no dove va? dai passalo oh 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 però non è giusto eh 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 continua 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 vai gioco vai gioco ancora lui gioco gioco oh 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 nooo madonna sa perché l'attivata così chiamami divese la faggiori capete se non incendi se potrei un o... un attaccante questo sono costretto ad censurarlo ehm non non è tranquillo e io però oh 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 nein No, dai, salà, ti prego, hai fatto una cosa perfetta Bruno Perez, salà, ancora lui Salà, salà, salato Salato, zuccherato, zuccherato, zuccherato Zuccherato, zuccherato Non va affatto bene Aspetta, aspetta, guarda il cambio, guarda il cambio Vai via 4 Ma che cazzo? Attenzione, tutto solo Attenzione, caleioni E appunto E metti la parte più importante Appunto di chi capire cosa Dai, la X Eh beh, facciamo da bar anche lui No, c'è Mertens, tu, zuccherato E' agile No, no, no Ok Questa è la terza partita che facciamo Perché dovevamo giocare da ogni tempo Eh, c'erano tipo tre giorni che dovevamo giocare Poi non abbiamo mai avuto la possibilità Ambrugio Oh, oh, oh Oh, oh Dzeko, 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 dzeko Dzeko Lì che è fuori Fuori Si vuole tale e quale Non passi, zi, non passi Non passi Non passi Per chi c'ha sceso Pari Su Su Andiamo a fare l'ultimo gol, dai Dai È buono 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 Guarda come Sono difeso Vabbè, 6 e 3 Eh, te l'ho detto che l'ultimo lo facevo Il match ha fissato il punteggio Finisce qui Come va ragazzi, quindi io spero che questo vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo video Mi raccomando lasciate tanti Beh, mi piace anche perchè sto registrando da 25 minuti praticamente Quindi spero che questo vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo video Mi raccomando lasciate tanti mi piace Se volete altri video su FIFA 17 E anche con Sarubi Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi